Stiamo parlando, stiamo riflettendo, ci siamo presi tutti quanti 24-48 ore di tempo e vediamo come si evolve la situazione. Considero Marco un deputatore forte, un calciatore che c'ha bisogno di spazio e qui forse in questo momento ce n'ha poco e vediamo come è la sua testa a quello che penso. Il Polk non vi do di nulla, lo considero uno dei calciatori più forti che ho comprato nella mia carriera.